il giornalista come quel cimberle come quel mona per il quale devo sguovare adesso lui è il grande giornalista milanese quel che sa tutto lui e gli altri niente e scriveva per la voce del busto arsizio l'osservatore di lambrate ma sono proprio stufo 15 anni che faccio sto lavoro 15 anni e sono sempre un precario un precario l'altro giorno adesso vi dico l'altro giorno non mi crederai ma l'ho fatto 40 anni i muli in redazione anche coccoli mi ha detto 40 anni ti facciamo la torta la torta un buon di mota con 40 candeline perché anche l'orizio precari che fiamò che fa 40 candeline una roba incredibile i vicini voleva chiamare i pompieri io buono che ho detto delinquenti vole che me licenzi sì che consiglio sì perché mi sono precario sono precario perché credi che sono studente il mi sbatteria in strada se sapessi che sono tanto vecchio e sape perché il me tiene il me tiene proprio per questo l'altro giorno mi ha domandato che trovo una nuova stagista tra le tue compagnie di università le mie compagnie di università le sono tutte sposate o divorziate o nonne addirittura sì sì sicuro mamma mia faccio che adesso arriva ma c'è solo per quel che le mettiamo ancora c'è solo per questo per andare a scienza della comunicazione e trovare che quelle stagiste che le sono piene di talento quelle bondone piene di talento davanti e di trio che piace a lui poi altro che talento allora può pensi che ci sono dei meni no? 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 no?